Il settore del teatro è in ginocchio, l'emergenza coronavirus, nonostante i numeri del contagio siano in netto calo rispetto a qualche settimana fa, ha lasciato dietro di sé moltissimi dubbi e incertezze, in particolare per quel che riguarda la ripresa degli spettacoli. Torneremo a godere di concerti e rappresentazioni come un tempo, questa la domanda sulla bocca degli operatori del mondo artistico, sono troppe le incognite all'orizzonte per gioire appieno dell'arrivo della fase 2 e delle libertà annesse. Labros Mangheras, presidente di Tib Teatro e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Residenze e Compagnie Teatrali, divisione dell'Agis, fotografa la situazione attuale con profonda amarezza. Immaginate di fare uno spettacolo teatrale con le mascherine o gli attori che mantengono le distanze, questo è quasi impossibile. Noi saremo forse l'unico settore che riuscirà ad aprire, infatti siamo in forte difficoltà perché tutte le strutture che si occupano del teatro sono viste a gerare i loro fatturati da un giorno all'altro. È un settore che è importante per la società, che è importante e soprattutto in questo momento immaginate cosa sarebbe essere chiusi in casa senza i video, senza la musica, senza l'arte, sarebbe veramente difficile. Tra le tante nubi qualche raggio di sole sono ricominciati i laboratori teatrali del Tib dedicati a bambini, famiglie e insegnanti. Abbiamo cominciato a lavorare con i gruppi classe tramite la piattaforma in internet, abbiamo modificato i nostri laboratori, abbiamo inserito all'interno non solo azioni teatrali ma anche musica, quadri, immagini, pittura, scultura, in maniera che i ragazzi possono avere più stimoli e soprattutto perché è tutto mediato tramite il video.